I took a pill in Ibiza To show a VG I was cool And when I finally got sober felt 10 years older But fuck it, it was something to do I'm living out in L.A. I drive a sports car just to... Cosa ti posso dire? Che si possono comprare finalmente le sigarette? Quello adesso, lo sanitario! Non vedo l'ora di prendermi una macchina Di essere indipendente Devo ringraziare soprattutto i miei genitori Mi hanno... Mi hanno seguito in tutto questo percorso di vita Naturalmente Devo ringraziare la mia ragazza che mi sopporta ogni giorno Deve essere responsabile, deve essere matura Non mi fare il video Non deve fare più c***ate Cosa che fanno i ragazzini ovviamente La patente Viaggio prima di tutto Poi discoteca Shopping Servizio esatto Mi auguro il meglio 50.000 euro ragazze vinci Magari Alla schienina Lasciate la vostra segna con il vostro tavolo Non propone nessuno Quindi tutti quanti su Di quanti su Un po' è la sua Posi Sentiamo ben uno ragazzi Ed è l'arco di questo momento Con un'applauso ragazzi Buongiorno Guardate Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che uomo ragazzi Che uomo di qui questa sera per quale motivo? Perché Riccardo è speciale Perché Riccardo è speciale Pregio Adesso ascoltare, adesso dare consigli E' un buon amico Quello che quando tu lo chiami è sempre presente Un difetto? Un difetto Ho sempre la ragione Ci siamo conosciuti da quando siamo nati Abbiamo fatto tutte le scuole insieme Tranne le superiori Cavolo E sei qui per lui o per quale motivo? Per bere e mangiare Per bere e mangiare Quindi Abbiamo Non l'ordiamo tanto E ormai lo sai Divertiti Te lo meriti Sei un bravissimo ragazzo In tutto E' il numero uno comunque E siamo orgogliosi di te Usate la vostra E' simpatico E' pazzo Prizza, gioia da tutti voi E' travolgente E ti amo con il cuore Sì 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 Allora Sì 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 Sì